Sarà inaugurata stasera venerdì 26 giugno alle ore 20 la prima casa dell'acqua sul territorio del comune di Agropoli. Installata in via Taverne nel parcheggio antistante l'ingresso del palazzetto dello sport Andrea Di Concilio eroga acqua naturale leggermente frizzante e frizzante. Si tratta di un primo passo al quale ne seguiranno di nuovi andando a coprire con ulteriori case dell'acqua le diverse aree cittadine. I punti individuati per la collocazione degli ulteriori impianti di distribuzione pubblica dell'acqua sono l'area portuale, piazza Gallo, l'area mercatale di Madonna del Carmine, località Mattine e località Moio. Tali installazioni, fa sapere il sindaco Adamo Coppola, possono contribuire oltre ad un risparmio in termini economici per le famiglie anche alla salvaguardia ambientale mediante la riduzione delle produzioni di rifiuti plastici riconducibili a bottiglie o altri contenitori generalmente impiegati per l'imballaggio. Un importante passo verso il plastic free, affermano l'assessore all'ambiente Rosa Lampasona e il consigliere Franco Di Biasi che ha collaborato al progetto. La possibilità di riutilizzo delle bottiglie contribuirà a diminuire il consumo di plastica, la distribuzione e il trasporto.